Incidente di Tsunoda per colpo di Luzon che come vedete segue la lotta tra Senna e Sargent Sargent per un motivo qua già qua visto vedete guardate già qua perde inizialmente Vedi già qua va molto largo e poi si gira qua e causa il ritiro di Yuki Tsunoda Adesso Atelier Konaka fatta da me Attenzione l'auto tra Stroll e Rovala tra Senna e Sargent La richiesta su questo gruppetto molto interessante Magro se si avvicina comunque attenzione la perde Attenzione si gira si gira La richiesta Sargent Fuori Tsunoda Fuori Tsunoda bandiera rossa bandiera rossa stop stop bandiera rossa Bandiera rossa rossa Buongiorno 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 Buongiorno